In un'ottica dove ci sono istituti che scoppiano, avere altre 28 stanze al reparto F vuote, dove puoi mettere anche quattro detenuti, non è che risolva i problemi del sovraffollamento. Poi con le scarse risorse dell'amministrazione per aprire gli altri partiti G2 e G3 abbiamo preso le superlettili dell'EF e le abbiamo spostate, quindi molte cose sarebbero da reintegrare per poterlo aprire.